Quindi un gioco di squadra? Eh sì, è stato bravo, un bel lavoro. Come si chiama e quanti anni ha? Desmo è a sei anni. Lavorati insieme da molto tempo? Sono tre anni che ci siamo certificati insieme. Poi come avete fatto per il ritrovamento? Si è accorto subito l'odore? Abbiamo avuto l'indicazione di fare questa zona dal nostro CL e da lì siamo partiti dall'inizio della ferrovia ma poi dopo pochi passi è partito e c'è stato il ritrovamento. Come gliel'ha segnalato? Abbaia, abbaia. Quando trova una persona avviene con l'abbaio. E poi giustamente anche una ricompensa? Certo, è una pallina la cosa così però per lui è tanto insomma.